Ancora un grave incidente lungo le strade della provincia di Arezzo. Uno schianto nel pomeriggio si è verificato alle porte della città. Il violento impatto lungo la strada provinciale 21 tra i chiani di indicatore nei pressi dell'interporto nel quale ha perso la vita un uomo di 56 anni. Uno schianto frontale tra una Porsche e una Skoda Fabia. Un urto violentissimo. La Porsche a seguito dell'impatto ha finito la sua corsa a decine di metri. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza con un'auto medica e quattro ambulanze, i vigili del fuoco e la polizia municipale. In volo anche l'elissoccorso Pegaso. Perite gravemente anche altre due persone. Una donna di 50 anni che è stata trasportata con l'elicottero in codice rosso all'ospedale di Careggi e un 25enne trasferito invece da Pegaso 2 alle scotte di Siena. Grazie. Grazie a tutti.